Ciao ragazzi, benvenuto dall'oramai celeberrimo angolo del carbonaro presente in tutti i barbecue paradise e volevo brindare a voi con questo calice inox all'arrivo di tre nuovi blend di carbone partiamo dal primo dedicato al grilling venite, io mi sporcherò le mani vi faccio vedere pesco dal sacco guardate, abbiamo una pezzatura media legno leggerissimo in accensione non dovrete aspettare di soliti 20 minuti perché prenda ma a 10 minuti questo è già pronto è un carbone adatto solo esclusivamente al grilling ed è un carbone che spinge tantissimo questo è un blend di fai vedere betulla e pioppo ovviamente della linea best charcoal poi quello è un carbone per grilling adesso andiamo in un carbone dedicato al low and slow e anche qua mettiamo le mani dentro guardate già la pezzatura quanto cambia sono pezzi veramente grossi il legno non è compattissimo quindi non faticherà a prendere potenza questo è invece un mix fra betulla e quercia la betulla da spinta e invece la quercia ci garantirà una lunga combustione quindi riusciremo ad avere delle prestazioni grossi pezzi verranno accesi da quelli proprio per il low and slow è perfetta questa macchina qua ultimo dei tre carboni che andremo a presentare è un carbone particolarissimo che è eccolo qua acacia e eucalipto anche qua vedete abbiamo una pezzatura andando sul medio medio grosso può essere considerato un'alternativa al betterwood è un carbone aromatico diciamo questo è un 360 va bene per grilling va bene per roasting ma ovviamente la nota aromatica dov'è che si evincerà di più quando andiamo a chiudere il dispositivo quindi andiamo a fare quelle che si chiamano cotture indirette low and slow roasting comunque col coperchio chiuso e il cibo beneficerà appunto della nota aromatica data dall'eucalipto a breve sul nostro sito cioè a breve vuol dire già da oggi Grazie